Nessun pericolo. Anas, dopo il sopralluogo nella galleria che ha visto il cedimento, ha annunciato che è tutto a posto. Ma sui social, e non solo, è esplosa la rabbia degli automobilisti. Nella galleria pozzale della E45, appena qualche ora fa, una pietra è finita sull'auto di una famiglia in transito rimasta fortunatamente inlesa. La situazione all'interno del breve tunnel, ricorda Anas, è tornata subito alla normalità con un segnalatore che invita la prudenza. Niente di più. Il sopralluogo effettuato dai tecnici non ha infatti rilevato condizioni particolari per le quali si rendesse necessaria una deviazione. Il materiale caduto era peraltro di dimensioni e peso limitati, ha concluso Anas. Altrimenti anche l'impatto con il cofano e poi con il parabrezza sarebbero stati di ben altra entità. La società, insomma, ha ridimensionato l'accaduto per la rabbia di chi quotidianamente transita nella E45.